Musica Uno dei tanti organizzatori della raccolta dei Banco Alimentari, oggi siete molto attivi mi sembra? Sì, come tutti gli anni la terza settimana di novembre il Banco Alimentario organizza anche a più oggi la raccolta di genere alimentare nei punti vendita, in tutti i punti vendita della città dove noi abbiamo una rete di volontari di circa 290 persone che sono dislocate in tutti i supermercati per chiedere alla gente di donare, fare un gesto concreto di donazione di genere alimentare per le famiglie di cuovere. Diciamo che anche quest'anno vediamo i primi risultati, sono positivi e speriamo appunto nella generosità della gente. Comprimenti L'Auser è presente alla coletta alimentare qui a Chioggia con quattro mezzi per raccolta prodotti sui supermercati. Siamo a disposizione, man mano che riempiono, man mano che chiamano andiamo a prelevare. Speriamo che siete molto bravi. Mi sembra che è un servizio bello che fate, mi sembra che la gente risponda. Come sta andando? Molto bene, è stata una gioia partecipare assieme ai miei alunni, abbiamo fatto il turno, è uno spettacolo vedere i bambini che si offrono ad accoglierle persone, a prendere la borsetta, che hanno voglia di vedere che è bello fare un gesto insieme e per noi educatori guardarli è sempre uno spettacolo. E' proprio una bella cosa, complimenti, bravi, grazie. Grazie, grazie. Grazie, arrivederci. Salve, siamo qua per la giornata dell'accoglietta alimentare. Raccogliamo beni per i bisognosi. Allora, come sta andando? Beh, intanto molto bene, insomma, mi sembra che la gente risponda veramente bene a questa colletta alimentare. Abbiamo raccolto, qui è il Clodi almeno, abbiamo raccolto parecchi prodotti, come potete vedere ci sono tutte le scatole. Grazie, grazie, grazie. Grazie proprio per l'ecologia di prodotto. Chiediamo alla gente che doni beni, chiaramente... La gente risponde? La gente risponde, sì, la gente risponde anche se di fatto siamo in un periodo di crisi, di fatica, però diciamo che la gente è sicuramente attenta ai bisogni degli altri. Mi dicono che c'è un tot sacco di comunioni e liberazioni in giro oggi. Tantissimi, non ne possiamo più. Non ne possiamo più. Allora? Allora, è il flusso del scorso anno. Qui, dobbiamo vedere dalle altre parti. Va a vedere dalle altre parti. Perché io sto facendo tutti i supermercati e state andando molto bene. Ah sì? A me sembra... Qua almeno, qua almeno. Sì? Guardando il numero di... Forse dovete mettere qualche signorina e invece tutti questi... Oh eh, se no me lo stai appena andando da via. E voi tanti anni che lo fate questo? Bravi, complimenti. A 20 anni. Bravi. Come sta andando? Ottimo, molto bene. Siete contenti? Sì, contentissimi. La gente si dà da fare? Sì, dalla mente vana, veramente abbastanza. Complimenti, bravi.